Ma ascoltami bene, ascoltami bene, ascoltami bene, vieni a vedere una cosa, vieni, vieni che ti faccio vedere, ce la fai? Dai, dai, ti aiuto io, aspetta, aspetta che ti aiuto, oh, aspetta, oh, issa, oh, issa, dai, vieni, ti faccio vedere, guarda, ma non è possibile Allora, Papone si stava facendo un caffè, guarda, guarda qua, cioè, questa qui, vieni, vieni, non fare furbore, vieni, 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 questa qui, questa qua la dovresti prendere, hai capito? Questa qua è la pastiglia che dovresti prendere, hai mangiato tutte le crocche, tutto, eh, e l'hai fatta la pastiglia, ma sei un furbone, ti sei mangiato pure il tacchino, eh, ti sei mangiato il tacchino anche, ma che furbone Guarda, dai che andiamo a fare una passeggiata qui sotto Adesso salutiamo tutti e diciamo a tutti che stai benissimo e che è stato, e che eri solo un po' agitato, eh, dai E grazie a tutti che hanno mandato tanti messaggi, eh, dai, ciao Guarda, Papone, mi è venuto in mente che il medico ha detto che prima di mezzanotte devo mangiare un po' di tacchino Sì, un po' di tacchino, dei crumiri, qualche bisco-bisco, sì, 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 l'ha detto il medico, mamma mia Ha detto che non devo agitarmi, eh, serve per tenermi tranquillo, sì, fammi un po' di grattarola che mi va sempre bene Sì, 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 serve per tenere sotto controllo la pressione, sì, la pressione, sì Allora, sì, proprio precisamente non è che si è proprio sbilanciato, però mi ha detto 100 kg di prosciutto Di tacchino, qualche crumiro, sì, è uno spritz, sì, serve per la pressione Un momento, Papone, non mi chiamare sempre Ci sono cose importanti che devo andare a vedere, tu cosa stai facendo con la mia spesa? Guardate, devi smettere di scappare, eh, Stefano Fa che non si scappa con la spesa degli altri, eh, che ti credi? Guardate, io non lo so, proprio un insolente Sì, no, è il mio Papone, è il Papone che se la poneva a mangiare, lo so, lo so Sì, noi due siamo compagni di merenda Eh, mettiamola in frigo, sì, mettiamola in frigo, mi raccomando, basta che ci sia tutto, eh, prosciutto Sì, tacchino, non hai dimenticato niente, vero, spritz? Sì, così ci facciamo uno spritz oggi pomeriggio, mentre il mio Papone dorme Sì, mi raccomando, che sia tutto bello fresco Poi controllo io, non facciamo avvicinare più nessuno, eh, mi raccomando, eh Sì, 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 sì